Buongiorno, sono Jacopo Cacciaglore di Siprosi Cisena, è un'azienda che lavora nel campo e nel campo all'interno delle imbarcazioni, 15 anni di esperienza grazie a tutti i suoi reti. Qui al SIFEC abbiamo portato la versione 2013 di Symfony, che è il nostro media center tutto basato su hardware Apple e con il nostro software proprietario. È un sistema che funziona la modalità client-server, che permette la funzione di contenuti multimediali all'interno di tutte le imbarcazioni e nelle altre server.